Qui a Cuveglio abbiamo presentato alle associazioni il progetto di invarianza idraulica che stiamo mettendo in atto nel nuovo posteggio, ma che in realtà è un ambito di rigenerazione urbana. È un progetto che si propone di regimentare le acque in modo che da una parte siano riutilizzabili, dall'altra non creino problemi di allagamenti e che nello stesso tempo garantiscono una vivibilità migliore a tutta la popolazione.